Vittoria, coltellamento in pieno centro, ferito ragazzo di 20 anni, la polizia indaga la ricerca del responsabile. Vittoria, arrestati due pusher tunisini trovati nella loro casa marijuana, ascisce d'eroina. Raccolta abiti usati, dietro l'iniziativa Urra Giro, le parole del segretario dei gesuiti di Ragusa. Ragusa AAA cercasi frittelle, la festa estate di San Martino è iniziata con il piede sbagliato ed è finita nel totale oblio mediatico. Ragusa domani sciopero generale proclamato dalla CGL, mobilitazione in tutta Italia. Prima edizione del nostro telegiornale, benvenuti in apertura la cronaca. Accoltellamento ieri sera a Vittoria, vittima un ragazzo di 20 anni ferito da un suo coetaneo. Pare che alla base dell'aggressione ci sia stato uno sguardo di troppo ad una ragazza. Accoltellamento in pieno centro a Vittoria. Ieri sera, prima delle 20, un ragazzo di 20 anni ha accoltellato un coetaneo sotto lo sguardo di numerosi passanti. L'episodio si è verificato nei pressi di un bar tra la via Milano e la via Bixio, di fronte alla scuola Vittoria Colonna. Alla base del gesto pare ci sia stato uno sguardo di troppo della vittima nei confronti di una ragazza. Atteggiamento che avrebbe fatto perdere la testa all'aggressore che ha estratto il coltello con cui ha sferrato il colpo. La pugnalata ha colpito il ragazzo a petto, andando a perforare un polmone. La vittima è stata trasportata all'ospedale Guzzardi dove verse in gravi condizioni. Per lui una prognosi di 30 giorni, mentre l'aggressore è fuggito. Sull'episodio indaga la polizia che è giunta sul posto e si è messa subito sulle tracce dell'accoltellatore. Restiamo a Vittoria dove i carabinieri hanno arrestato due tunisini per spaccio di droga. All'interno della loro abitazione sono stati trovati infatti involucri con ascisce, marijuana ed eroina. Arrestati due pusher tunisini. Nella giornata di ieri i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Vittoria, supportati da unità cinofile di Catania, hanno tratto in arresto enftati a Slim ed e Sufi Mohsen entrambi di 32 anni e domiciliati a Vittoria. Durante una perquisizione domiciliare presso la loro abitazione di via 4 Novembre sono stati trovati dietro una porta dismessa sei involucri di cellofan di cui tre contenenti hashish per un peso complessivo di un gramma e mezzo, mentre i restanti contenevano marijuana per un peso complessivo di tre grammi. Inoltre all'interno di un suppellettile in legno è stato trovato un involucro di carta velina con all'interno eroina del peso complessivo di un grammo, il tutto sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito i due tunisini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione della competente autorità giudiziaria davanti alla quale dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta della 41esima e della 42esima persona tratte in arresto dai militari della Compagnia di Vittoria. Nell'inizio dell'anno nell'ambito della lotta alla droga. E sempre i carabinieri di Vittoria hanno arrestato un pregiudicato di 25 anni che deve scontare in carcere una pena residua per reati vari commessi tra il 2004 e il 2010. Sentiamo. Arrestato Claudio Giunta. Nel fine settimana appena trascorse i carabinieri della stazione di Vittoria hanno tratto in arresto il giovane di 25 anni in ottemperanza al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Giunta deve scontare la pena residua di 4 anni, 5 mesi e 16 giorni di reclusione in quanto ritenuto responsabile per i reati di furto aggravato commesso a Santa Croce e Camerina nell'agosto del 2004, rapine e ricettazione commesse a Vittoria nel gennaio del 2007, furto aggravato commesso a Vittoria nell'aprile del 2007, ricettazione e violazione degli obblighi delle misure di prevenzione a cui era sottoposto, commesse a Vittoria nel dicembre 2010. Una volta rintracciato e condotto presso la caserma di via Garibaldi, giunta e stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa di contrata pendente a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' stato sorpreso fuori dalla casa famiglia dove alloggiava per scontare arresti domiciliari a cui era stato sottoposto, così per lui sono scattate di nuovo le manette. Arrestato Salvatore della Croce, modicano pregiudicato di 37 anni, già agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata la scorsa primavera a Vittoria. L'accusa per lui è di evasione, nello specifico della Croce ospite di una casa famiglia e parina, ma ieri durante un controllo pomeridiano effettuato dagli agenti del commissariato di Vittoria non è stato trovato nella sede. L'educatrice ha riferito di non sapere dove si trovasse, così gli agenti hanno iniziato le ricerche che dopo poco tempo hanno permesso di trovare il pregiudicato abbastanza distante dalla casa famiglia. Della Croce è stato dunque arrestato e come disposto dal magistrato di turno, ricollocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà oggi stesso. Sempre gli agenti del commissariato di Vittoria hanno trovato all'interno di un fatiscente caseggiato rurale in Contrada, Serra a Roveto, 177 scatole contenenti un ingentissimo quantitativo di raccorderia idraulica per impianti di irrigazione in agricoltura. Le indagini hanno consentito di stabilire che il deposito nel sito è recentissimo ed inoltre hanno appurato che il proprietario dell'immobile sia estraneo ai fatti. Con ogni probabilità il materiale sarebbe stato trafugato da qualche grande azienda cooperativa non più in attività. Ciò spiegherebbe infatti l'assenza ad oggi di denunce specifiche. Il valore della merce è di svariate migliaia di euro. Nuova udienza ieri del processo che vede sul banco degli imputati, tra gli altri il professore Massimo Civello, ex primario del reparto di chirurgia dell'ospedale civile di Ragusa. Ieri sono stati ascoltati gli avvocati difensori di sei imputati. Nuova udienza ieri del processo a carico del professore Massimo Civello, ex primario del reparto di chirurgia generale dell'ospedale civile di Ragusa. L'udienza è stata dedicata alle arringhe della difesa di sei imputati dell'indagine denominata Alpi Iblee. Si tratta di quattro medici, un infermiere e un imprenditore etneo. Gli avvocati hanno chiesto per tutti il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Civello, l'unico ad essere stato sottoposto per 18 giorni agli arresti domiciliari all'epoca dell'indagine, è accusato di concussione. Il professore in pratica pare chiedesse somme di denaro sui pazienti per superare le liste d'attesa, di falso ideologico immateriale, di omissioni di atti d'ufficio, di lesioni personali e colpose di truffa. Dopo la prima udienza che si è svolta il 4 ottobre, udienza più organizzativa che altro, il processo era entrato nel vivo il 22 ottobre con gli interventi degli avvocati che hanno presentato le storie dei rispettivi clienti, costituitisi parti civili. Cinque le parti civili accolte, l'ASP e quattro famiglie. Il GUP Giovanni Giampiccolo deciderà sulla posizione dei sei imputati il prossimo 3 dicembre. Controlli serrati durante il fine settimana da parte della Polizia di Comiso. Gli agenti in Borghese hanno vigilato le zone dove è maggiore lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Quattro giovanissimi sono stati segnalati per consumo di sostanze stupefacenti nella notte tra domenica e lunedì a Comiso. I controlli sono stati effettuati dagli agenti del commissariato casmeneo nelle zone dove sono soliti riunirsi i ragazzi, dalle vicinanze della villa comunale sino alle adiacenze di Piazza Fontediana. Tre dei quattro assuntori hanno appena compiuto i 18 anni, mentre uno è addirittura sedicenne. Quest'ultimo è stato affidato al fratello Maggiorenne perché vigili sul suo comportamento, visto che i genitori sono fuori sede. I quattro sono stati appunto segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e saranno successivamente convocati dall'Ufficio Territoriale di Governo per alcuni colloqui. La sostanza sequestrata, marijuana e ascisce, è stata portata presso l'Ufficio Chimico dell'Asp per verificarne l'effettiva presenza di principio attivo. Controlli da parte della Polizia Municipale di Vittoria durante la settimana della Fiera e Maia. Rilevate diverse sanzioni ad alcuni espositori ed elevate multe agli automobilisti disciplinati. In occasione delle Maia Novembrina, che ha appena chiuso i battenti, le agenti del Corpo di Polizia Municipale di Vittoria hanno effettuato una serie di servizi mirati sia nell'ambito della circolazione stradale che in ambito commerciale. A partire da sabato 3 novembre, giornata inaugurale delle Maia, dichiarato il Comandante Cosimo Costa, è stato predisposto un piano del traffico che ha reso scorrevole il deflusso dei veicoli in entrate e in uscita dalla zona della città della Fieristica e che ha visto impegnato il personale della Polizia Municipale e volontari di varie associazioni. La Polizia Municipale è stata presente anche all'interno della Fiera e Maia con un proprio stand allo scopo di lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, in particolare per informare sui rischi legati alla guida e stato di ebrezza, all'assunzione di droghe e all'alta velocità. Lo spazio espositivo è stato visitato anche da scolaresche che hanno mostrato di recepire il messaggio lanciato dal Corpo dei Vigili Urbani. Diversi i servizi effettuati durante la Fiera di San Martino, come le verifiche sulle richieste inoltrate dalle ditte per partecipare all'esposizione, verifiche che hanno portato all'individuazione di sei ditte con partita IVA cessata e di una con licenza versata per cessazione dell'attività. Alle sette ditte in questione non è stato assegnato il posto per l'esercizio del commercio all'interno della Fiera. 21 i verbali elevati per occupazione di spazio assegnati ad altre ditte, 2 quelli elevati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Per quanto attiene ai controlli stradali, nel periodo dal 3 all'11 novembre la Polizia Municipale ha elevato 159 avvisi per divieto di sosta e 31 verbali per violazioni varie. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco.